Buongiorno, sono Giampaolo dalla Pasolini Auto di Gussago in provincia di Brescia. Oggi vi presento questa splendida Mini Countryman Cooper D 2000 turbodiesel 150 cavalli, automatica, immatricolata nell'anno 2017, appartenuta ad un unico proprietario con soli 30.000 km originali percorsi. Vettura che si presenta in uno splendido grigio sabbia metallizzato, tetto e cerchi a contrasto in colore Gloss Black, le ruote sono da 18 pollici, abbiamo sensori di parcheggio, fari LED, abbiamo interni sportivi in pelle e tessuto, il volante multifunzione, abbiamo anche il cruise control, ecco 30.500 il chilometraggio percorso, naturalmente la nostra vettura è dotata di bluetooth, sistema di navigazione satellitare cartografico, abbiamo anche climatizzatore automatico, vediamo, ecco, di accendere tutto, sistema start and stop, tastierina per utilizzare le funzioni della nostra Mini, specchi ripiegabili elettricamente, quattro altre cristalli elettrici, vi mostro anche il sedile posteriore, vettura veramente in ottime condizioni, disponibile in pronta consegna, vi aspetto a Gussago presso il nostro autosalone Pasolini Auto, per vederla, provarla ed eventualmente acquistarla, grazie!